Ciao ragazzi sono venuti in questo video, dopo aver finito il nostro allenamento di calcio dopo andiamo a prendere le patatine all'intespar però prima il nostro amico ci ha fatto un pensierino vai vai daglielo, vai 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 fatti vedere cos'è però e cos'è? come si dice? coltello si dice grazie anche, come si chiama? leggi Leonardo facci vedere se hai letto giusto, bravo ciao ragazzi alla prossima